Il Parco Nazionale d'Abruzzo è stato creato nel 1923 per salvaguardare la natura italiana e gli animali selvatici rari come il lupo, il camoscio, il cervo e l'orso bruno marsicano. Ci sono tanti animali qui! Sì, per questo bisogna essere molto rispettosi. E ci sono anche degli eberi antichissimi, come le antiche facete, foreste primordiali di facci che hanno resistito perfino alle glaciazioni. Ehi, ma state mangiando di nuovo! Stavo dicendo, sono patrimonio dell'umanità Unesco! Un'orso! Ci vuole mangiare! Non vuole mangiare voi, ma sono i vostri panini!